Parlando di celiachia, che è l'argomento del convegno che si è svolto all'auditorio del Ministero della Salute, cerchiamo di capire che vita è soprattutto dalle pazienti. Sara, quanti anni hai? Ho 32 anni, ma sono diagnosticata celiaca da quando ne avevo 25. Perché quando ne avevi 25? Lì ti sei accorta che c'era qualcosa che non andava? Allora, sì, diciamo, io è dal 2008, perciò ero ancora minorenne, che avevo notato che c'era qualcosa che non andava, però la diagnosi ufficiale, vera e propria, c'è stata solamente nel 2016, perciò è stata una diagnosi comunque tardiva, che mi ha causato non pochi problemi. Penso sì, la tua vita non è semplice, a vederti sei una bellissima ragazza, non ti manca niente, ma come ti approcci agli amici, alla tua vita di stare con gli altri? Allora, diciamo, la mia vita non è molto semplice, è cambiata completamente da quando ho avuto la diagnosi di celiachia. Oltretutto non sono solamente celiaca, ma anche intollerante all'attosio, allergia alle proteine del latte, al frumento e al nickel. Perciò, diciamo, la mia vita sociale ne risente moltissimo. Quindi c'è da ogni giorno da far fronte a varie problematiche? Sì, infatti tutti i giorni mi preparo dei cibi adatti alle mie esigenze, sperimento, diciamo, gli ingredienti che non sono molti e cerco di variare sempre la mia alimentazione. Ma io penso che questo tuo sorriso, questo tuo essere così bella, aiuti chi adesso sta seguendo a capire che comunque si convive con la celiachia. Si convive tranquillamente, anche per questo, proprio per aiutare gli altri, ho aperto una pagina su Instagram, mi chiamo Sarese1991, e sulla mia pagina potete trovare post informativi sulla celiachia, dei rill anche divertenti sulla celiachia, ma non solo. Soprattutto ricette complete con tanto di ingredienti e procedimento, in modo che tutti possano capire che si può convivere tranquillamente con queste problematiche. Ma so che c'è anche una cosa importante che è successa nella tua vita. Sì, allora, ho partecipato a vari concorsi, li ho vinti, sono dei concorsi senza glutine, e l'ultimo di questi è stato Italia Celiace Award, che era una competizione a livello nazionale, che comprendeva delle sfide culinarie in diretta Instagram, e ho sfidato varie concorrenti da tutta Italia e alla fine ho vinto. Inoltre ho scritto due libri per bambini, che riguardano la natura, che si chiamano Raccontiamo la natura, e nel secondo volume è presente un accenno alla celiachia, all'intolleranza lattosa e all'allergia alle proteine del latte, proprio per informare fin da bambini a queste problematiche. Celiachia dalla A alla Z, che cos'è, che peso è per una famiglia? E la celiachia è una malattia? Allora, la celiachia è una malattia cronica, quindi non bisogna confonderla con le mode e con le intolleranze, è una malattia cronica, dell'intestino tenue, è un'infiammazione che si scatena con l'ingestione di glutine nei soggetti geneticamente predisposti. E l'unica terapia ad oggi è una dieta rigorosa senza glutine e senza contaminazioni. Sì, all'inizio ha un certo peso, perché all'inizio ci si sente disorientati. E io dopo vent'anni di esperienza e come volontaria e come mamma ho pensato di scrivere questo libro per mettere a disposizione di tutti, in particolare dei neodiagnosticati e dei loro familiari, informazioni e consigli pratici per poter vivere una vita quotidiana il più spensierata possibile. Ecco perché quanto pesa su un bambino, su un adolescente, poi l'adulto va bene, ma essere celiaco? Ecco, in particolare i bambini sì, in particolare poi gli adolescenti, quella è la fascia veramente d'età più critica. Come scrivo nel libro, io consiglio ai genitori dei bambini di confrontarsi con i docenti, di informarli sulla celiachia, informarli dandogli veramente uno strumento, come per esempio può essere anche il mio libro, dove uno può arricchirsi e capire che cosa è la malattia, che cosa comporta. E come organizzarsi, per esempio, con i laboratori di classe, piuttosto che le gite scolastiche, quindi ricordarsi del bimbo celiaco e cercare, possibilmente quando ci si sposta per una gita, un locale che vada bene anche per lui, in modo che si possa stare tutti insieme in un mondo inclusivo. Quindi non escludere. Esatto, no, la parola inclusività è la nostra parola, perché non vogliamo che ci siano discriminazioni come purtroppo a volte può succedere. Ecco perché ho scritto il libro, per poter informare tutti e rendere un mondo migliore per i celiaci.